Commento al Vangelo proclamato nella domenica di ottava di Natale nella forma straordinaria del rito romano Seguito del Santo Vangelo secondo Luca, capitolo 2, versetto 21 In quel tempo, dopo che furono trascorsi otto giorni, affinché il bambino fosse circonciso, fu chiamato con il nome Gesù come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nell'utero Nell'Antico Testamento Dio aveva ordinato al Patriarca Abramo di circoncidere tutti i primogeniti maschi del popolo ebraico Leggiamo infatti nel capitolo 17 della Genesi che Dio disse ad Abramo Da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza Dopo di te, di generazione in generazione Questa è la mia alleanza che dovete osservare Alleanza tra me e voi e la tua discendenza dopo di te Sia circonciso tra di voi ogni maschio Vi lascerete circoncidere la carne del vostro membro E ciò sarà il segno dell'alleanza tra me e voi Quando avrà otto giorni sarà circonciso tra di voi ogni maschio Di generazione in generazione Tanto quello nato in casa come quello comperato con denaro Da qualunque straniero che non sia della tua stirpe Deve essere circonciso chi è nato in casa e chi viene comperato con denaro Così la mia alleanza sussisterà nella vostra carne come alleanza perenne Il maschio non circonciso, di cui cioè non sarà stata circoncisa la carne del membro Sia eliminato dal suo popolo Ha violato la mia alleanza Questa pratica che agli occhi dei contemporanei potrebbe sembrare Barbara o dettata da mere ragioni igieniche come spesso storici e antropologi tendono a ridurre È in realtà il simbolo carnale dell'antica alleanza Trasformato con la nuova alleanza nel sacramento definitivo del battesimo Del quale la circoncisione ebraica era una semplice immagine A differenza del battesimo tuttavia la circoncisione non era un sacramento Ma un mero segno, un simbolo spirituale Il significato spirituale della circoncisione è il seguente La natura non è più santa È stata corrotta dal peccato originale Che si trasmette di generazione in generazione con il concorso sessuale Ed è necessaria una doppia azione per riportare la natura al suo stato di santità originaria Da una parte, infatti, c'è l'azione di Dio con la sua grazia Ma c'è anche l'azione dell'uomo nella sua libertà e responsabilità In tal senso, la circoncisione di Cristo assume un grande valore simbolico Perché quel bambino non è un ebreo tra tanti Gesù Cristo è colui che porta a compimento La promessa implicitamente indicata nel rito della circoncisione Ecco perché dopo la redenzione effettuata da Cristo sulla croce Il rito della circoncisione ha perso valore Perché la promessa indicata da quel gesto, da quel rito È stata portata a termine Siamo nell'era di una nuova promessa La resurrezione Annunciata e prefigurata nel battesimo Che in più ha anche l'effetto reale Di cancellare il peccato originale e i suoi effetti spirituali Questo stesso significato spirituale ci è indicato da San Tommaso d'Aquino con parole diverse Nella Suma Teologia egli scrive La circoncisione che si faceva tramite l'asportazione Della membrana carnale del membro della generazione Significava lo spogliarsi della vecchia generazione E da questa generazione vecchia Siamo liberati mediante la passione di Cristo Spogliarsi della vecchia generazione Significa appunto liberarsi dalla carne concepita nel peccato originale E proiettarsi verso il corpo glorioso e risorto futuro Oltre alla circoncisione di Cristo La Chiesa fa memoria e medita la purificazione di Maria al Tempio La legge mosaica infatti imponeva alle donne di eseguire un certo rito Come leggiamo nel capitolo 12 del Levitico Quando una donna sarà rimasta incinta e partorirà un maschio Sarà impura per sette giorni Sarà impura come nei giorni del suo ciclo mestruale L'ottavo giorno il bambino sarà circonciso La donna poi resterà ancora 33 giorni A purificarsi del suo sangue Non toccherà nessuna cosa santa E non entrerà nel suo santuario Finché non siano compiuti i giorni della sua purificazione Quando i giorni della sua purificazione per un figlio o per una figlia Saranno terminati Porterà al sacerdote all'ingresso della tenda di convegno Un agnello di un anno come olocausto E un giovane piccione o una tortora come sacrificio per il peccato Il sacerdote gli offrirà davanti al Signore E farà l'espiazione Per lei Così ella sarà purificata del flusso del suo sangue Questa è la legge relativa alla donna Che partorisce un maschio o una femmina Se non ha mezzi per offrire un agnello Prenderà due tortore o due giovani piccioni Uno per l'olocausto E l'altro per il sacrificio per il peccato Il sacerdote farà l'espiazione per lei Ed ella sarà pura Questo è quanto leggiamo appunto nel Levitico Ed è interessante notare come la famiglia di San Giuseppe e della Madonna Si trovasse in quel momento della loro storia Della sua storia In evidenti strettezze economiche Se, come scrive l'Evangelista San Luca Gli animali che Giuseppe e Maria comprarono per il sacrificio rituale Furono una coppia di tortore appunto O di giovani colombi Lo leggiamo nel Vangelo di Luca al capitolo 2 versetto 24 Cioè Giuseppe e Maria comprarono quanto prescritto dalla legge di Mosè Per coloro che non avevano i mezzi per offrire un agnello Evidentemente più costoso da acquistare La Madonna, come è noto E come presumibilmente è la stessa sapeva Per una rivelazione privata Era immacolata Cioè fu concepita nel grembo di sua madre Già esente dal peccato originale E pertanto a rigor di logica Aveva il buon diritto di sottrarsi al rito di purificazione Il cui significato, come possiamo intuire È speculare a quello della circoncisione per il maschio Ciò nonostante Così come Cristo si sottopose alla circoncisione Anche Maria volle sottoporsi alla purificazione Per mostrare obbedienza alla volontà e alla legge di Dio Ma anche per prefigurare il ruolo Che lei, Maria Avrebbe avuto nella purificazione dell'umanità Tramite il concepimento di un così grande Redentore Grazie a tutti